I'm going to stand tall around, sometimes, till the end is inside, sometimes, we are yonder, sometimes, we are yonder, sometimes, we are yonder. Domenica 16 settembre a Corio si va alla scoperta di Sentieri e Sapori. Una passeggiata enogastronomica lungo le antiche mulattiere organizzata dall'Associazione La Burera alla riscoperta degli antichi mestieri legati alla montagna. Uno splendido itinerario naturalistico che dal concentrico del paese percorrendo i sentieri terminerà in località Trinità dove si terrà il pranzo, un modo originale per conoscere Corio e le sue tradizioni montane. Cosa aspettate? Prenotatevi per domenica 16 settembre a Sentieri e Sapori!